perché pensa che è finita se è sfogato oggi, pomeriggio dicendo io me ne vado anche urlando come una satanato forse abbiamo qualcosa anche da far sentire dopo e questa sera ormai è l'ultima serata però se posso spezzare una lancia sempre a mio favore lui comunque anche questa volta ha dimostrato che aveva ragione Gianni si incavola e si imbufalisce quando vuole quando qualcosa non è... è vero, è vero cioè, vuol dire che ci hai azzeccate abbastanza tutte quasi tutte se non fosse, perché quasi, cosa hai sbagliato? non hai sbagliato? no, che stasera ho superato l'aspettativa stasera? ho superato l'aspettativa beh, raccontaci di... quindi bene, lo stai dicendo come se fosse una cosa negativa cioè, come sei entrata? arriviamo a... perché io non so se la cosa che ho fatto possa avere delle ripercussioni ma tanto mica lavoro per Sanremo mica posso non farmi qualcosa hai commesso un reato, cosa hai fatto? no, semplicemente ho aspettato ho avuto anche paura che lui non arrivasse però ho detto non può il direttore artistico non arrivare l'ultima sera ma no, no, no quindi è vero per te ma se non l'hai aspettato? sì ma quando è arrivato? ma se vi chiedino nervosamente guardando l'orologio? cioè, gli hai fatto anche il calciatore? no, no, perché è arrivato abbastanza presto no, no, perché è arrivato abbastanza presto magari è arrivato l'ultimo secondo e sono riuscita a rimanere di avanti non c'era neanche questo delirio quando è arrivato quindi ho fatto il sorrisone tranquillo ma ho parlato piano piano perché dopo ieri sera ho capito che funziona meglio mi sono avvicinata ah, ma vedi anche JTM che è il telefonino come suoneria? quello solo per il signor Carlo ragazzi so distinguere ho delle priorità e anche dei valori vedo il direttore e dico Gianmarco facendo un sorrisone lui mi guarda e mi riconosce perché al contrario di me ancora si riesce a riconoscere le persone io lo saluto e dico sai, ti sono passata vicino mi sono avvicinata in questi giorni e intanto camminavo con lui e andrò avanti mi sono no, ti ho visto in questi giorni ma non ti ho mai salutato perché sai la direzione io sono l'ultimo rotolo in caro adesso lavoro poi per RTL con la gelata su lui ma dai e siamo riusciti a entrare perché mi ha no, mi ha spinto le canzoni cioè? no dai manda i pezzi ha detto no, ha detto ma RTL manda le canzoni le manda molto sono molto contento ti giuro sono molto contento però poter mandarle anche un po' di più io faccia di tolla totale ho detto guarda credo che in questi giorni no, no ho detto che in questi giorni su RTL di canzoni italiane e non è vero vadano solo quelle del festival di Sanremo le altre sono state proprio seriate ah no, bene bene sono contento comunque mi raccomando nel tempo eri in salotto in prima settimana no, ero allegramente all'interno felice? quindi con questo scamotesto è riuscito a entrare anche questa sera senza impatto nessuno mi ha detto niente perché no, ma nessuno mi ha detto niente perché io gli parlavo pianino vicino vicino quindi uno non pensa che una pazza mitomane si avvicini al direttore no, anche che parli piano piano sorridendo i fotografi che c'erano l'intorno hanno pensato bene altro e se ne accorgono l'orecchio e se ne accorgono e se ne accorgono